Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio TP Termometro Politico. La domanda fatta a fiducia nel Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La maggioranza risponde no per nulla con il 37,8%, poi c'è sì molta con il 25,7%, segue sì abbastanza con il 18,1%, no poca con il 17,7%. Chi dice non so è lo 0,7%. Chi ha fiducia in Giorgia Meloni risulta meno della metà, intorno al 44-45%, chi dichiara di non avere fiducia è oltre il 50%. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Arrivederci a tutti e grazie.